Ce ne sono tanti, alcuni sono sepolti nelle memorie dei più anziani, di altri si ricorda solo una melodia. Parliamo degli inni e dei canti dedicati alla Madonna della Grotta di Praia a Mare, composti agli inizi del Novecento. Per questo motivo, su iniziativa di Maria Giuditta Garreffa, è stata avviata un'operazione di recupero che ha coinvolto il compositore tortorese Andrea Timo Leone, che si sta occupando della trascrizione delle partiture, la contralto Lucrezia Lazzari e il tenore Giuliano Greco, entrambi componenti del coro polifonico Laudate Dominum. Tutto questo per ridare una nuova luce a canti che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre. Non c'è arrivato nessuna partitura, per cui mi sono data pena, diciamo così, di recuperare questi inni antichi, ma non arcaici chiaramente, antichi della grotta perché non vadano perduti, perché si recuperano le melodie. Perché una volta che non si cantano più, insomma, in chiesa, i giovani, per esempio, molti giovani non li conoscono proprio questi inni. L'imnus, questo qui appena eseguito, non è stato mai suonato da 35 anni, da quando per 35 anni non è stato suonato. Come sono venuti i padri, i figli di Santa Maria Immacolata, dopo la gestione di Don Domenico Petroni, che lo faceva fare molto questo inno, faceva concludere la novena con l'esecuzione di questo inno. Don Franco, il sacerdote che abbiamo avuto dall'anno scorso, diocesano, è molto motivato culturalmente, per cui l'inno gli è piaciuto e lo ha fatto eseguire molto volentieri. Non è solo un'operazione di recupero, ma anche di devozione, come spiegatoci dal tenore Giuliano Greco. Ho messo a disposizione la mia voce, che dedico con devozione alla Madonna della grotta, sperando che mi faccia cantare sempre così. Io faccio parte del coro polifonico, laudato di Don Domenico, da 20 anni, dal 1991, e quindi sono stato onorato di aver cantato questo inno. Grazie a tutti.